Io ho incontrato il direttore verso fine maggio e mi ha cercato e appena ho ricevuto la sua chiamata ho detto vengo direttore a qualsiasi costo, gli ho detto io rimango sia in Serie D che in Serie C, abbiamo aspettato il ripescaggio fino all'ultimo e niente, ora ci impegneremo a questo campionato di Serie D. Ci vuole una scossa sia da parte nostra che da parte della società e cercheremo tutti insieme, anche insieme al mister, di riportare l'Arezzo dove si merita. Sicuramente l'Arezzo sarà la squadra a battere visto che viene dalla Serie C visto anche l'organico, tutti si aspettano tante cose e andremo a affrontare squadre che si impegneranno al massimo per portare a casa il risultato contro di noi. Giocare in questo stadio dove sono stato sempre in curva, in tribuna, guardare gli altri giocatori sarà un'emozione grandissima. Sono stati dei contatti subito dopo la fine del campionato, quindi mi faceva molto piacere, sono stato cercato molto e quindi la mia scelta è ricaduta qui perché è una piazza molto importante, perché tutti mi hanno voluto. Avevo avuto anche qualche contatto con Società DC, però sono voluto venire io qua, è stata la prima scelta a Arezzo, e quindi sono qui per andare a vincere e cercare di vincere in tutti i campi e di far felici i tifosi perché visto l'annata scorsa non è stata positiva. Tutti cercheranno di battere l'Arezzo, però sicuramente troveranno sulla loro strada una squadra e un gruppo affamato che cercheranno di portare a casa i tre punti.